Quindicesima edizione del forum quale energia di Lega Ambiente, Chioto Club, siamo con Massimiliano Atelli, Presidente Commissione Via e Vas del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Quali sono le prime azioni concrete portate avanti dal Governo per spingere la transizione energetica del nostro Paese? Le prime misure varate dal Governo nel decreto legge aiuti quater che sta iniziando il suo percorso di conversione in Senato vanno nella direzione di un potenziamento delle organizzazioni che si occupano di valutazione di impatto ambientale, in particolare le due commissioni che operano presso il Ministero, la Via Vassa da un lato e la PNRR PNIEC dall'altro. È stato aumentato il numero dei commissari della seconda delle due che si occupano in prevalenza di energia ed è stato consentito un interscambio tra i componenti dell'una e i componenti dell'altra. Abbiamo da lavorare, da processare un volume molto importante di istanze autorizzative e quindi era assolutamente indispensabile che l'organizzazione fosse dimensionata in modo adeguato per far fronte a questo volume. È decisamente un segnale importante e incoraggiante anche per il nostro lavoro e confidiamo che certamente si tradurrà nella crescita dei numeri in termini di gigawatt autorizzabili che il sistema Paese attende.